Carissimi benvenuti ad una nuova video lezione di IR Training. Abbiamo parlato l'altra volta di significato di sound mapping. Ora vorrei fare una ulteriore differenziazione parlando di soundscape. Come sapete la parola scape è un suffisso che viene di solito utilizzato all'interno del mondo inglese, della lingua inglese e significa in maniera molto semplice qualcosa che riguarda la rappresentazione. Per cui quando noi parliamo di, che ne so, mediascape, visione, rappresentazione di una determinata scena, di una particolare cosa, così come quando noi affrontiamo il discorso sulla soundscape, vuol dire che si tratta della rappresentazione, se vogliamo, grafica oppure attraverso spettrogrammi di una determinata situazione sonora. Quindi se il mapping è un po' la mappatura sonora di una determinata zona geografica, di un determinato luogo, di un determinato ambiente, la soundscape è invece la rappresentazione vera e propria di ciò che abbiamo fatto all'interno di una, diciamo, mappatura sonora. Quindi è l'aspetto proprio pratico, tecnico della rappresentazione e quindi successivamente l'analisi della mappatura sonora. Questo è interessante. Altra particolare cosa che tengo a dire è che nell'ambito delle registrazioni che vengono poi messe online su YouTube e anche sul profilo dei percorsi didattici del mio website, alla fine sono anche inserite alcune indicazioni, alcuni video che vanno a completare quello che io vi sto dicendo, come per esempio una bellissima intervista di Marai Schaffer, anche se in inglese però è abbastanza chiara, così come alcuni, diciamo, momenti di riflessione sul paesaggio sonoro che vi consiglio di andarvi comunque a vedere per avere ancora di più, ecco, una visione chiara ed una consapevolezza su quello che è il senso della mappatura sonora. Quindi fatta questa considerazione, quindi andiamo, come vi dicevo, ad andare ad approfondire quello che è il concetto di soundscape. Come abbiamo detto quindi si tratta di una rappresentazione. Il suffisso inglese scape messo vicino alla parola sound non dà altro che una maggiore incisività su quello che è il senso appunto della rappresentazione, della visione, della presa anche di consapevolezza della visione stessa dell'ambiente sonoro. Come vi ho spesso detto è chiaro che questo momento, movimento, nasce da una questione, da un problema di natura ecologica del suono nella prima parte, però poi in altri momenti, in altri momenti, l'aspetto del sound mapping, l'aspetto del soundscape ha anche acquisito una riflessione di natura compositiva, per cui tanti materiali, al di là di quella che può essere un'indagine poi di natura antropologica, etnologica, sociologica, eccetera, eccetera, ha anche avuto una visione nel tempo di natura musicale, per cui tante elaborazioni fatte dallo stesso Schaffer sono diventate poi dei brani musicali anche abbastanza interessanti nella storia della musica degli anni 70, degli anni 80. E anche lì su YouTube c'è veramente tanto materiale che voi potete prendere in considerazione e anche sentire, giusto per avere una rinfrescata generale, una visione globale di tutto quanto. Quindi la diffusione di fatto delle tecnologie, anche la diffusione dei prodotti di natura tecnologica, hanno aiutato molto, ecco, hanno aiutato molto, diciamo, questo ambiente, questo filone di ricerca. Non fosse altro che anche a livello planetario ci sono dei siti dedicati in cui uno può entrare e può anche contribuire a livello del tutto strettamente gratuito, può contribuire con le proprie registrazioni a dare una visione, diciamo, geomusicale, geosonora di quello che è il proprio territorio. E vi posso garantire anche in questo, cercherò di fornirvi anche dei link su YouTube, ci sono delle differenze interessanti. Per esempio quello che cercherò di postare all'interno di questo video, per esempio, sono i rumori di strada, the traffic noise, sia, per esempio, di alcune città italiane, ma anche di alcune città, per esempio, europee, come Londra o anche Bombay. E lì vi renderete conto, al di là delle immagini che sicuramente un po' distraggono e riescono a contestualizzare bene, però se, diciamo, sentite questi suoni indipendentemente dalle immagini, vi renderete conto di come sia interessante riuscire attraverso l'orecchio, il solo orecchio, a definire e a connotare un determinato luogo geografico. E anche dai rumori di strada, dal traffico di strada, per esempio, di un ambiente londinese rispetto ad un ambiente napoletano o ancora da un ambiente romano rispetto a quello di New York o di Bombay, ci sono delle caratteristiche tecniche che logicamente riescono bene a definire, riescono bene a definire l'ambiente geografico, perché esistono, ecco, delle linee al di là di quello che può essere il rumore, diciamo, di delle macchine che sono più o meno simili un po' al contesto geopolitico mondiale, perché il rumore di una macchina è uguale sia in Italia, sia in America, sia a Londra piuttosto che in Australia, ma ciò che caratterizza l'identità di un territorio è appunto il contesto, il contesto diciamo musicale e ambientale che caratterizza quel territorio. Io non vi voglio anticipare niente, ripeto, mi piacerebbe che voi andaste a visionare più che altro a sentire questi suoni e poi eventualmente ne possiamo anche discutere attraverso, al momento, attraverso un, diciamo, un vostro commento su mail, no? Cosa che logicamente mi aspetto. Ma andiamo proprio nel pratico, andiamo nel pratico perché è interessante da questo punto di vista farmi vedere, farvi vedere come potremmo in un certo senso lavorare da un punto di vista proprio della timeline. La timeline non è altro che un, diciamo, piccolo grafico che potete farvi da solo su un foglio normale, su cui un solito diagramma nel quale da una parte metterete appunto da 0 secondi fino a 15 minuti, 10 minuti, quello che sarà poi la vostra investigazione, quindi sotto nella barra, diciamo, orizzontale, metterete l'aspetto cronologico del filmato oppure dell'audio e invece l'altra parte possiamo utilizzare diversi parametri. Può essere il parametro del volume ad essere interessante, può essere, che ne so, anche il parametro di alcune varietà tipo il vento, la macchina, il vociare, eccetera, eccetera. E poi, andando avanti nel tempo, ecco, noi potremmo eventualmente posizionare quell'elemento particolare in quel determinato secondo, in modo tale da creare una sorta di, diciamo, progetto, ecco, un progetto dinamico, progetto cronometrico di timeline, appunto, in cui, ecco, posizioniamo i diversi elementi che noi notiamo e quindi alla fine si crea un grafico interessante. Questo è, diciamo, in sintesi il lavoro che piano piano voi inizierete a fare. Allora, per i link che io vi riporterò sotto questo video sarei veramente molto contento se da qui a qualche giorno, insomma, ricevessi da parte vostra delle indicazioni, dei commenti, delle valutazioni, anche se, diciamo, sono valutazioni di natura soggettiva, quindi individuale, mi piacerebbe comunque sentirli. Non vi chiedo di fare enormi pagine oppure numerosissime righe, bastano solo dei piccoli commenti, delle piccole frasi, giusto per capire se incominciate piano piano a comprendere il senso, ecco, di questo lavoro, di questo ear training particolare riservato al sound mapping e al soundscape.